Continua il nostro tour nelle scuole ferraresi alla vigilia della ripresa delle lezioni in classe. Questa mattina a riceverci è stata la professoressa Maria Gaiani, preside dell'Istituto Comprensivo Filippo De Pisis. Cinque plessi, tre di scuola elementare, uno in città, due nel forese, due di scuola media di primo grado, a Ferrara in Viale Crasnoda e a Porotto. Noi ci siamo preparati per riprendere in sicurezza le lezioni in presenza, dice la preside. Non tutto, oggi è già pronto, ma siamo addestrati alla flessibilità. Fortunatamente nei nostri edifici non è stato necessario fare interventi di edilizia importanti. Un unico edificio ha i lavori in corso, la Matteotti, perché necessitavamo di allargare quattro aule. Tutti gli altri edifici hanno delle aule capienti a sufficienza per poter aspettare in sicurezza i ragazzi, per cui sono semplicemente state fatte degli spostamenti di aule, di banchi, di qualche arredo, neanche tanto in sostanza. Per il resto la capienza fortunatamente delle nostre aule era tale da consentire la sicurezza del distanziamento. E i banchi? I banchi sono stati ordinati perché noi qui alla Depisis sede di Ferrara abbiamo una sezione sperimentale in cui lavoravamo per aree, per isole di lavoro, per cui tavoli grandi di lavoro. Questi non saranno più utilizzabili, abbiamo fatto l'ordinazione dei nuovi banchi al Ministero, siamo in attesa, abbiamo ordinato 90 banchi, 90 posti monobanco. Con le ratelle mobili? No, 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 no. Io ho ordinato banchi tradizionali, siamo solo in attesa della consegna, speriamo che giunga in tempi sufficienti per l'avvio dell'anno scolastico. Il Ministero ha parlato di entro il 31 ottobre, ma a me servono entro il 14 settembre, perché se no ai ragazzini oggettivamente in questo caso non saprei dove accoglierli. Nell'attesa delle 90 sedute monoposto e dell'assunzione di alcuni docenti che la scuola potrà decidere sulla base dello stanziamento messo a disposizione dal Ministero per le singole scuole attraverso l'ufficio scolastico regionale, la Preside ci parla poi del lockdown come di un'esperienza importante di sperimentazione della didattica digitale iniziata con grande rapidità e già a regime ai primi di marzo, con docenti preparati e la distribuzione già entro a Pasqua di un centinaio di dispositivi informatici per gli alunni che ne erano spravvisti.